Ciao a tutti, oggi dopo aver ricordato a voi di lasciare un mi piace, condividere il video e iscrivervi al canale e anche seguirmi su tutte le altre piattaforme, vi vorrei parlare della questione della difesa dei confini e della sentenza rispetto all'Ungheria di almeno due corti europee, la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei Diritti Umani. Ricorderete il recente video sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea che condanna l'Ungheria sulla zona di transito, la cosiddetta transit zone, al confine con la Serbia. I clandestini devono essere liberi, come si legge nella sentenza, di circolare. Le domande d'asilo devono essere vagliate per un massimo di 4 settimane, quindi 28 giorni. Dunque la zona di transito è contro il diritto europeo, i valori europei, secondo questa sentenza. Non solo quindi quella famosa di Rösche, quel paese famoso per il 2015, gli scontri al confine con la Serbia, ma anche quella di Tompa, non molto lontano. Se non ricordo male, a ovest. Siamo sempre sul confine ungherese-serbo, quindi nella parte meridionale dell'Ungheria. E cosa ha pensato di fare, secondo voi, il governo Maggiaro guidato da Orban Victor? Accontentare l'Unione, secondo voi, burocrati? No, ovviamente. Mantenere il controllo serrato dei confini e chiudere le zone di transito, quindi quelle strutture di accoglienza per la richiesta, il vaglio della domanda, che da oggi in poi, in realtà giovedì scorso in poi, si potrà fare solo lontano dall'Ungheria, quindi dalla barriera, ad esempio a Belgrado, ad esempio in Bosnia, dove stanziano queste grandi masse di immigrati che quasi sempre vogliono arrivare illegalmente, vedremo poi i dati. Giovedì si sono svuotate con dei bus le due strutture, quattro richiedenti asilo sono affidati all'ufficio di asilo e migrazione governativo ungherese, quindi devono rimanere nelle strutture. 280 invece, che sono il resto, sono stati portati in tre centri chiusi poco lontano in Ungheria, non come nell'Ovest europeo dove i richiedenti asilo vengono lasciati, vagano di fatto per le strade liberamente e poi si spostano in giro per l'Europa. E voglio sottolineare che in questi centri, chi ha fatto i richiedenti asilo che aspettano l'esito della domanda, possono tornare sempre indietro in Serbia se vogliono, se lo vogliono. Perché sono nate queste strutture ricettive? Per evitare il macello del 2015, ricorderete gli scontri, quando migliaia di illegali forzarono con la violenza, il supporto della rete, Shoro, Shopen Society, il confine meridionale ungherese, quello con la Serbia. Siamo sempre lì. Era un modo per non far ammucchiare troppi clandestini in poco spazio. Dal 2017 il loro obiettivo era di permettere la richiesta d'asilo in un luogo ordinato, quindi sotto controllo e con tranquillità, a chi possedeva documenti validi e voleva rimanere nel paese Magiaro. E nel frattempo poteva attendere il vaglio della domanda lì dentro, al sicuro, in tranquillità o in Serbia. Da quel lato si poteva sempre uscire liberamente. Questo va sempre ricordato perché i diritti umani venivano e vengono rispettati. Sei mesi fa, ricorderete il video, la corte UE aveva dato ragione all'Ungheria e torto ai quattro bengalesi, sostenuti dalla rete Open Society per quanto riguarda l'assistenza legale. Ora sentenza capovolta, stranamente. Guyash Gergai, uno dei portavoci del governo Orban, il governo vede la sentenza di questi giorni come un pericolo per la difesa dei confini e dello spazio Schengen, come lui stesso dice. Dunque rispettiamo la sentenza, la rispetteremo chiudendo tutto e accettando le domande d'asilo solo dall'estero, quindi fuori dall'Ungheria. Il comitato di Helsinki, che è una di queste associazioni ONG nella galassia e nella piovra di Shorosh della Open Society, che si occupano della difesa dei diritti umani, almeno ufficialmente, ha parlato di grande vittoria e di grande successo per i diritti dei profughi adesso rispettati e poi promette di continuare ad osteggiare in ogni modo il governo Maggiaro. Peccato nelle zone di transito non siano mai stati violati i diritti umani, come dice il governo, come afferma il governo, che prosegue. Continueremo a proteggere le frontiere dall'illegalità. La doppia barriera al confine non verrà rimossa. La chiusura delle strutture non significa che gli ospiti ora sono liberi in Europa. Se le loro domande saranno respinte saranno accompagnati in Serbia, quindi fuori dallo spazio Schengen, come ogni Stato europeo dovrebbe fare, compresa l'Italia o la Grecia. Considerate che quasi tutti i migranti provavano quasi tutti in quale percentuale? Si calcola il 99% dal 2014 in poi. Provavano ieri come oggi a entrare in UE, quindi in Ungheria, in modo illegale, quindi da clandestini. Dunque il discorso zone di transito valeva solo per una piccolissima minoranza, l'1%. Tutti vogliono andare in Italia, tutti vogliono andare in Austria, Germania, Svezia, Francia, eccetera, eccetera, nord, ovest, europeo. Dunque i flussi ora ripartono, vedremo in altri video futuri gli sviluppi, naturalmente ve ne parlerò. Da giovedì i centri serbi, centri d'accoglienza serrati durante l'epidemia, sono di nuovo aperti, sono stati riaperti. Così si riattiverà la rotta balcanica, almeno nella parte settentrionale, poi vedremo nella parte meridionale, dalla Turchia alla Grecia. Flussi che arriveranno quindi probabilmente a sfiorare o a travolgere la Slovenia, l'Italia, ancora prima la Croazia, la Bosnia, la Serbia. Passiamo a quello che dice una mamma a M1, una televisione pubblica ungherese che ricorda come nel 2015 a Nirbator, un paesino, il sud dell'Ungheria a confine con la Serbia, dove oggi sono stati portati alcuni dei 280 delle zone di transito, i migranti abbiano distrutto il parco giochi cittadino e dice non conosciamo il pericolo sanitario, fino a quando rimarranno non devono poter uscire, altrimenti i bambini non usciranno più serenamente, la vita non scorrerà più serenamente. Orban, a Kosciutradio in quella bella trasmissione radiofonica, io rega il Tmoyoros, quindi buongiorno Ungheria, afferma la sentenza dell'UE è pericolosa, non solo per noi, per l'Ungheria, ma per tutta l'Europa, per ogni Stato europeo. L'Ungheria difende da anni anche il resto dell'UE sui Balcani, quindi lo spazio Schengen dall'esterno, dal confine esterno. I burocrati europei, dopo il sonno da pandemia, perché l'Europa non ha mosso un dito praticamente in difesa dell'Italia, l'ha fatto tardivamente in maniera quasi da palliativo, si sono svegliati tutto un tratto, adesso che la fase oculta dell'epidemia è passata, ricominciano il loro attacco ai conservatori. Chi decide con chi devono convivere i cittadini degli Stati a casa loro? Bruxelles? Si chiede Orban. No, dovrebbe essere lo Stato-Nazione, ogni Stato dovrebbe decidere e quindi ogni popolo dovrebbe decidere con chi convivere nei decenni e secoli a venire. Da quello che ho capito, dice Orban, le transit zone non sono possibili, dunque le domande si devono fare fuori, lontano dalle barriere, dalle doppie barriere. Le persone sottovaglio per domanda asilo non possono girare libere in Europa. La decisione della Corte peggiora le condizioni dei richiedenti asilo, ma se i burocrati vogliono questo, li accontentiamo, li accontenteremo. Ci attaccheranno, attaccheranno l'Ungheria anche per queste decisioni. In futuro sono al soldo di George Soros, letteralmente in ungherese sono nelle loro, nelle sue tasche, nelle tasche di Soros. Lo speculatore vuole il caos migratorio in UE per sfruttarlo finanziariamente. Se non ci sono problemi, allora i problemi devono essere creati o portati in Europa per guadagnare interessi sui soldi. Oltre all'economia, questo lo dico io, cavallo di battaglie e sovranisti socialisti, c'è un interesse ideologico dietro. La società aperta, multietnica nell'Ovest e quindi anche nei paesi del gruppo di vice, Polonia, Ungheria, Repubblica cieca e Slovacchia. Superare le nazioni, superare i popoli europei. Ecco, queste parole, queste frasi, le sentirete mai da un leader, da un presidente del Consiglio, da un primo ministro, da un presidente della Repubblica, capo di Stato dell'Ovest europeo? No, c'è il politicamente corretto, c'è il progressismo-regressismo. E tutto quello che vi pare a voi, l'ultraliberalismo, i socialisti liberali, quello che volete voi. Il consulente per la sicurezza interna del governo ungherese, che poi è anche un generale, Orvat Jozef, afferma, e questo interessa all'Italia, il Sud Europa è particolarmente esposto a questi giochetti degli speculatori finanziari e della società aperta. I clandestini devono essere accolti, presi, deve essere loro pagato tutto in cambio di soldi a prestito dall'autorità sovranazionale, in questo caso l'Unione Europea. Un compromesso ideologico, come dice Orvat. Quindi cambiare gli equilibri dell'Europa a favore di chi vuole la società aperta per schiacciare il gruppo di Vicerat, che invece è a guida conservatrice nazionalista, conservatrice o comunque di centrodestra anti-immigrazionista. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, se vi volete iscrivere iscrivetevi pure, se non siete già iscritti, condividete il video, seguitemi su tutte le piattaforme, fate una donazione anche mensile se potete e volete. Alla prossima visita, arrivederci. Grazie a tutti.